La città di Salerno prova ad allontanare blatte, zanzare e cattivi odori attraverso l'installazione di innovative caditoie che bloccano la fuoriuscita delle puzze, trattengono i rifiuti, ne facilitano la rimozione ma soprattutto allontanano gli sgradevoli insetti la cui presenza non passa inosservata anche nel comune capoluogo. Saranno 30 al momento le nuove caditoie installate da comune di Salerno e da Salerno Sistemi che hanno presentato questa mattina a piazza Sant'Agostino l'innovativo sistema già sperimentato in Svizzera. Il centro storico verrà interessato da questa fase sperimentale che se dovesse avere successo e confermare la riduzione della presenza di blatte, zanzare e cattivi odori potrebbe portare il comune di Salerno ad investire sul sistema e ad applicarlo anche nelle caditoie del resto della città. È una caditoia innovativa che Salerno Sistemi ha programmato di dislocare in città, partiamo con 30 caditoie qui in piazza Stata Cossino, parte di Via Mercanti, Doganareggia e altri assi e sono delle caditoie particolari allestite dall'azienda Unfo, è un brevetto certificato e testato anche in Svizzera che ha una sua peculiarità. Di tanto vi parlava la dottoressa Altieri, presidente di Salerno Sistemi, è una caditoia che evita la fuoriuscita degli odori con un sistema di sifonaggio, evita che possano uscire dalle caditoie insetti, addirittura le zanzare sono bloccate o blatte o quant'altro e consentono una rapidissima manutenzione laddove ce ne fosse bisogno ma comunque una manutenzione periodica che è già programmata. È un espediente che mi sembra intelligente che dà una mano all'igiene urbana, dà una mano alla città, dà una mano ai cittadini. Fatta questa sperimentazione doverosa credo che insieme a Salerno Sistemi allargheremo questa installazione nel maggior numero di tombini possibili e vedremo che ci saranno sicuramente delle migliorie se, come spero, la sperimentazione dara un esito positivo. Sindaco, non è l'unica novità che riguarda Piazza Sant'Agostino per la quale il Comune sta procedendo sull'idea di chiuderla completamente alla possibilità che le macchine possano sostare in maniera selvaggia. Stiamo facendo dei provvedimenti integrati che presenteremo non appena saremo pronti.